salve ragazzi io sono megadome numero uno e benvenuti in questo nuovo video che cosa abbiamo qui sulla scrivania ragazzi come avrete potuto intuire dal titolo del video era un po che vi volevo parlare e portare un video su come costruire questa fantastica montatura che mi ha dato tantissime soddisfazioni sia dalla scogliera che dal porto e parlo soprattutto della montatura che io utilizzo per pescare con i tocchetti di sarda quindi con piccoli pezzettini di sarda o con gambero volendo delle volte mi è capitato di innescare anche delle piccole striscette di calamaro insomma quello che vi capita ma sicuramente esche più voluminose più selettive che si indirizzano a prede più importanti che cosa ci serve ragazzi per costruire questa montatura prima di entrare nello specifico diamo una occhiata facciamo una panoramica generale di tutto quello che ci serve allora innanzitutto cosa fondamentale galleggiante da inglese in questo caso è un galleggiante della stomme già piombato 12 più 2 per chi non lo sapesse 12 sta ad indicare il peso del galleggiante il più due sono i grammi che noi dobbiamo aggiungere alla nostra spallinata la nostra piombatura affinché la piombatura quindi la zavorra o il quantificato in grammi che dobbiamo aggiungere per raggiungere la stabilizzazione perfetta del galleggiante quindi oltre il galleggiante da inglese possiamo dire anche appena piombato e in questo caso panciuto in modo tale che ci segnali bene le abboccate perché questa è o le mangiate questa è una pesca che si fa principalmente di notte quindi poi con l'aggiunta dello starlight le mangiate grazie a questo galleggiante si vedranno in maniera davvero davvero precise ci servono un moschettone con girella semplicissimo più o meno di questa taglia anche un po più piccolo va bene degli stopper perché andremo a simulare la montatura che io faccio normalmente per la bolognese che vi ho fatto vedere in qualche video passato perline della bed bus quindi in questo caso delle semplicissime perline bed bus in vetro di murano io le adoro perché sono veramente molto molto funzionali sia di diametro più piccolo che di diametro un attimino più grande dopo di che ci serve un ogiva di piombo da un grammo scorrevole potete anche fare una spallinata fissa quindi con i piombini spaccati però io per mia comodità e per far sì che l'esca essendo un'esca comunque che può essere disturbata anche da pesci di piccola mole che non vanno ad abboccare ma che ne sono comunque attratti io tendo a creare una montatura chiaramente poi sarà libera interpretazione vostra e libera discrezione vostra modificarla a vostro piacimento ma io preferisco fare una montatura che con una piombatura che mi consenta di far arrivare l'esca il più possibile vicino al fondo e il più velocemente possibile vicino al fondo non voglio che abbia uno svolazzo eccessivo e che noi non voglio che abbia una calata troppo lenta perché altrimenti il la minutaglia mi andrebbe a rovinare un innesco perfetto che invece potrebbe fare appetito rendere ghiotto qualche bel qualche bella preda più a fondo quindi questa è una montatura che io faccio con terminali corti e con piombature tali da poter consentire ai tocchetti di sarda i tranci di calamaro o al gambero di poter scendere il più velocemente possibile il più vicino possibile al fondo perché voglio che i pesci più grossi che generalmente stazionano sul fondo specie le spigole le orate le grosse occhiate ma perché no anche qualche sarago qualche carangile insomma quello che più capita e più probabile che mangi al ridosso del fondo e spesso capita nelle da scogliera o da porti a venti fondali già importanti vicini ai 5 metri ecco quindi non voglio che l'esca ci metta troppo tempo lungo la colonna d'acqua per arrivare a fondo voglio che arrivi il prima il più il prima possibile più velocemente possibile alla portata delle prede più grosse questo è il motivo e poi abbiamo bisogno ragazzi di tre ami questi sono ami di misura 8 gli ami che generalmente io utilizzo seppur poco perché pratico poco il self casting li utilizzo per innescare il bibi per le orate quindi ami dell'otto ad occhiello vanno benissimo anche a paletta vedete un po voi in base alle marche alle esigenze diciamo di di ami insomma quelli che hanno più rispecchiato le caratteristiche che voi cercate vanno bene quasi tutti gli ami purché siano di buona o comunque anche meglio ottima qualità quindi ragazzi questo questo qui è tutto quanto l'occorrente poi abbiamo un taglia unghie che ci aiuterà nella fase di eliminazione delle eccedenze adesso andiamo direttamente alla costruzione della montatura ok ragazzi prima di andare nel vivo di quella che è la costruzione vera e propria della montatura ci tengo a precisare che per effettuare questa tecnica dobbiamo affidarci ad una canna da bolognese da avente azione un attimino più strong non utilizzate canne da bolognese light perché il galleggiante da solo pesa 12 grammi nulla vi vieta di farla con che andremo ad innescare tre tocchetti di sarda come vedrete qua da gli ami o tre pezzetti di gambero tre pezzetti di calamaro insomma la l'innesco sarà abbastanza corposo e sostanzioso per cui il galleggiante deve avere una resistenza una morfologia tale da poter sostenere questi carichi e questi inneschi diciamo abbastanza abbondanti quindi affidatevi a canne da bolognese un attimino più strong non utilizzate canne da bolognese light anche perché già soltanto tirando sulla lenza si piecherebbero troppo quindi utilizzate delle canne da bolognese ripeto con un'azione strong in modo da non solo avere più sicurezza quando si combatte il pesce ma anche nell'avere una maggiore riserva di potenza visto che la montatura ha già di per sé un peso abbastanza significativo allora per prima cosa andiamo a prendere il filo che viene dalla nostra canna ragazzi io in bobbino ho messo per questa tecnica uno 0 25 voi potete mettere anche un 22 potete azzardare a mettere un 30 non andate però oltre il 30 perché non ne vale la pena diciamo poi con la bolognese frizionando e stancando il pesce si possono tirare fuori i prete importanti allora la prima cosa che dobbiamo fare prendiamo degli dei comunissimi stopper in questo caso le ho presi di taglia m che per lo 0 25 vanno benissimo e ci prendiamo ragazzi il primo stopper prendiamo il filo che viene dalla canna una volta passato tra tutti gli anelli e iniziamo a montare lo stopper per prima cosa proprio tutto inizia da qui ragazzi dallo stopper di punta inseriamo come ben sapete doppiamo il filo e lo facciamo passare tirandolo sempre non tiratele da questa parte perché li sprecate tutti tirate sempre dall'anellino in plastica in questo modo ok da due lo facciamo passare ad uno e abbiamo lo stopper in line sul filo adesso cosa mettiamo mettiamo una perlina in vetro di murano della bed bus importantissimo ragazzi anche di queste perlino non è soltanto il fattore resistenza e funzionalità ma anche il fattore invisibilità perché ragazzi in acqua essendo proprio in vetro non le vedrete completamente e di conseguenza non le vedranno nemmeno i pesci poi facendo questa è una tecnica che io pratico principalmente di notte ancora meno quindi tanto di cappello ok allora stopper e perlina una volta passato stopper e perlina come nella precedente montatura da bolognese che vi ho fatto vedere in un video poco tempo fa passiamo adesso uno stopper scusatemi un moschettone con girella in questo modo qui adesso andremo a fare esattamente l'opposto dalla parte sinistra del moschettone prendiamo un'altra perlina la inseriamo questo modo e così abbiamo stopper perlina moschettone perlina quindi manca un altro stopper questo ragazzi ci permetterà di regolare la profondità e di evitare anche spiacevoli aggrovigliamenti del filo sia durante l'azione di recupero che durante l'azione di lancio perché già con una montatura avente questo peso possiamo anche permetterci qualche piccolo lancio chiaramente per quello che la bolognese consente nessun lancio lungo ecco qui ragazzi questo sistema è incredibilmente funzionale non aggroviglierete quando lanciate non aggroviglierete quando recuperate il galleggiante starà sempre lontano dal terminale quindi non darà problemi né in fase di lancio ripeto né in fase di recupero della lenza a vuoto in bando o nella fase di recupero della preda non solo avendo un moschettone perché metto il moschettone con girella e non direttamente la girella perché il moschettone ad apri e chiudi con girella mi permette anche di intercambiare il galleggiante qualora io voglia pescare un po più leggero con un galleggiante meno vistoso o non ho bisogno di un galleggiante così grande ne metto uno più piccolo o viceversa se ne ho uno piccolo possa intercambiare e metterne uno più grande adesso fissiamo il galleggiante all'interno del moschettone così e lo andiamo a chiudere poi potete usare uno sgancio rapido quello che preferite e questo ragazzi è quanto e come galleggiante ci siamo adesso andiamo alla piombatura quindi spostiamo un po gli stopper e andiamo alla piombatura iniziamo con un ogiva da un grammo abbiamo detto che il galleggiante un 12 più 2 quindi dobbiamo tenere conto anche del peso dell'innesco e tre tocchetti di sarda come sapete non tanto il gambero il calamaro ma tre tocchetti di sarda sono piuttosto pesanti quindi diamogli più o meno uno 0 75 grammi di di scarto possiamo dire e in modo tale che ci sia una riserva di di sostenibilità da parte del galleggiante di questa di questo peso e in modo tale che sia perfettamente bilanciato in parole povere che cosa ho fatto ho messo un ogiva da un grammo scorrevole e un ogiva da 0,25 grammi che ho vado tagliando un ogiva da un grammo questo che cosa vuol dire che abbiamo 1,25 grammi di piombo lo 0,75 di piombo che manca per stabilizzare i due grammi che sopporta in più il galleggiante li ricaveremo poi dall'innesco quindi lo si bilancerà in maniera perfetta adesso una volta passati i piombi inseriamo la perlina quella avente diametro un pochino più largo perché poi questa farà sì che il piombo le ogive di piombo scorrendo non vadano a danneggiare il nodo quindi questa perlina ci permetterà di fare da salvanodo adesso prendiamo una girella va bene anche una micro girella insomma non serve che sia una girella più grande purché sia di ottima qualità insomma e sia chiaramente affidabile io uso delle micro girelle anche perché ripeto essendo già una montatura abbastanza heavy abbastanza grande e voluminosa e pesante non voglio appesantire più più di tanto la lenza quindi una volta passati i piombi e la perlina come potete vedere procedo all'attacco della girella la prima parte ragazzi la tagliamo perché è stata danneggiata dal passaggio degli stopper quindi la tagliamo che un pochettino il filo si va a viziare si va allogorare un attimino poi prendiamo la girella e facciamo un nodo semplicissimo il nodo uni a tre spire una due e tre chiaramente bagniamo una volta bagnato andiamo a serrare il nodo tenendo anche il capo libero del filo che è questo qui e serriamo questo qui ragazzi è un nodo efficacissimo molto affidabile e semplicissimo nella realizzazione tagliamo l'eccedenza e questa qui ragazzi è praticamente la montatura io adesso vado ad abbassare gli stopper del galleggiante per farvi vedere proprio la montatura in miniatura poi chiaramente andrà tutto tarato in base alla profondità del fondale quindi abbiamo galleggiante stopper perlina moschettone perlina stopper e poi la piomba dura come vedete perfettamente scorrevole e il nodo protetto dalla nostra perlina in vetro di murano che avrà diametro leggermente maggiore rispetto a quelle utilizzate negli stopper adesso ragazzi non resta altro se non fissare il terminale allora abbiamo detto che in bobbina abbiamo uno 025 ma possiamo spaziare da un 22 sino al massimo un 27 30 già col 30 siete un po più sovradimensionati ma va bene comunque io qui che cosa ho fatto ragazzi tre braccioli semplicissimi ho legato semplicemente tre ami ad occhiello e adesso vi spiego un trucchetto con del fluorocarbon puro 022 questo sarà il nostro terminale chiaramente il terminale dovrà sempre avere diametro inferiore rispetto alla lenza madre altrimenti il carico di rottura del terminale sarebbe superiore a quello della lenza madre non avrebbe tanto senso quindi l'importante è che proporzioniamo sempre bene il terminale con la lenza madre adesso disponiamo questi tre ami uno immediatamente sotto all'altro in questo modo qui ragazzi devono stare uno sotto all'altro ora noi ce le andiamo piano piano a tirare non appena sono uno sotto l'altro devono formare una coda quindi in fila il primo il secondo e il terzo una volta che siamo così prendiamo i tre capi di filo di fluorocarbon che abbiamo tagliato andiamo a prendere i nostri tre capi una volta messi gli ami ben allineati e facciamo un semplicissimo nodo soltanto uno facciamo una solina e passiamo i tre capi liberi del filo all'interno di questa solina e lo andiamo a chiudere piano piano lasciando un 7 8 centimetri dal nodo dal nodo sino agli ami un 7 8 centimetri non di più andiamo e tiriamo questo per farsi ragazzi che gli ami si mantengano sempre in coda uno sotto l'altro questo ragazzi c'è un motivo per il quale gli ami devono rimanere uno sotto l'altro è che innanzitutto si ingarbugliano meno e poi la sarda specialmente la sarda che ha un'odorosità e rilascia degli oli in acqua che sono micidiali per qualsivoglia tipo di pesce in questo modo avendo tre ami e non soltanto uno creeremo un camino un odore maggiore che stimolerà ancora di più l'avvicinarsi e l'attaccare delle prede che noi vogliamo andare ad insidiare una volta quindi fissate le tre gli ami alle tre altezze da questo nodo centrale andiamo a passare l'altro capo quindi dalla destra del nodo abbiamo ancora i capo i tre capi liberi del filo che cosa facciamo andiamo a inserirli nella nostra girellina uno due e tre ecco qua una volta passati tutti e tre facciamo un altro nodo uni come vedete il terminale è molto corto e sarà una quindicina di centimetri non di più facciamo una piccola asola la teniamo tra indice e pollice e qui ragazzi state molto attenti perché dovremo inserire questi tre capi liberi di filo all'interno di questo occhiello per tre volte state attenti a che passino sempre tutti e tre i capi di filo altrimenti rischierete che alcuni braccioli alcuni terminali verranno fissati bene ed altri no noi invece dobbiamo accertarci che vengano fissati bene tutti e tre quindi uno come vedete sono passati tutti e tre aiutatevi qui con un pochino di pazienza perché dovete fare in modo che passino tutti e tre i terminali due come vedete uno non è passato quindi lo prendiamo con le dita e lo facciamo passare noi l'ultimo giro che anche volendo quello un pochettino più difficile però va ad assicurare il tutto e li facciamo entrare nuovamente in questa solina che abbiamo creato sempre utilizzando i medesimi fili in questo modo qui ragazzi una volta passati tutti e tre piano piano tiriamo appena viene fuori quest'otto bagniamo non stringete mai i nodi prima di inumidirli perché si stringeranno meno e in questo modo invece inumidendoli si stringeranno perfettamente ed ecco qui ragazzi il nodo perfettamente realizzato adesso andiamo a tagliare le tre eccedenze di filo ok serrate bene i nodi ragazzi lasciamo un baffettino proprio cortissimo e qui ragazzi la montatura è praticamente pronta come potete vedere abbiamo un galleggiante regolabile che scorre lungo la lenza o che comunque verrà bloccato dagli stopper ma noi abbiamo la possibilità di farlo scorrere regolando poi il fondo e poi abbiamo piombature e un 15 centimetri nemmeno 16-15 centimetri di terminale in fluorcarbon a tre ami in fila uno sotto l'altro questo per creare un camino irresistibile è come se stessimo pescando con un pasturatore perché l'odore che fa un tocchetto di sarda non è lo stesso odore di tre tocchetti di sarda quindi questo è un innesco corposo abbondante potete anche innescare mezza sarda intera facendola passare a cucire con tutti e tre gli ami va bene pure non ci sono assolutamente problemi io per mia comodità e abitudine pesco con i tocchetti di sarda innescati ad uno ad uno mentre si può innescare ripeto anche o una striscetta di calamaro intera o un gambero molto un pochettino più grande oppure direttamente metà sarda sfilettata quindi tolta dalle lische e tutto e su tutti e tre gli ami fate un po' come preferite e questa qui è la montatura ragazzi ora l'ultimo trucchetto che volevo condividere insieme a voi alcuni mi potrebbero dire eh Dome però gli stopper ora che il filo è bello asciutto non scorrono tanto bene hanno bisogno di forza quando il filo però si bagnerà in fase di ferrata il galleggiante andrà a premere sullo stopper in basso e me lo sposterà e si creerà più o meno questa situazione in cui si distanzia uno stopper dall'altro bene ragazzi questo non succede sempre innanzitutto la cosa principale per evitarlo è comprare gli stopper della taglia giusta proporzionata al filo quindi chiedete al vostro negoziante di fiducia io ho utilizzato gli M poiché il filo in bobina è uno 025 se avessi avuto un 16 avrei utilizzato gli S giustamente quindi vedete un po' di regolare il tipo il tipo di stopper la dimensione dello stopper che poi dipende anche dal forellino interno che hanno più è piccolo lo stopper più è piccolo il forellino e viceversa e regolatelo in base al filo ma esiste anche un altro espediente che adesso vi vado ad illustrare e che si può facilmente risolvere anche se avete dice ma io ho degli stopper che mi sono avanzati e non li posso comprare ogni volta non ho il tempo benissimo facciamo così prendiamo innanzitutto facciamo una cosa stendiamo la lenza concentriamoci su questo spezzone di filo ragazzi che va dalla girella quindi possiamo dire dal piombo allo stopper del galleggiante quindi poi noi ce lo regoliamo deve essere sotto questa operazione deve essere fatta rigorosamente sotto lo stopper che si rivolge alla girella che va verso la girella lo stendiamo e facciamo potete usare un filo di cotone potete usare un filo elastico potete usare quello che vi pare creeremo a nostra volta un altro stopper in questo caso in nylon con un nylon molto sottile questo è un 14 che impedirà in fase di ferrata allo stopper in basso una volta che il galleggiante capovolgendosi farà forza sullo stopper gli impedirà di scorrere quindi aggiungeremo uno scorrevole nostro che impedirà allo scorrevole montato in precedenza di spostarsi verso la girella in questo modo così avremo sempre contezza di pescare senza aver perso la misurazione esatta del fondo e allora stendiamo il filo cosa molto importante prendiamo un piccolo spezzone di filo ragazzi una ventina di centimetri anche meno facciamo un'asola così una bella asola una E ragazzi prendiamo il filo che va ripeto dallo stopper in basso alla girella e ce lo appoggiamo qui ragazzi proprio così in questo modo qua adesso una volta accostato il filo che abbiamo tagliato al filo della nostra montatura facciamo passare il capo libero del filo che abbiamo tagliato all'interno dell'asola che abbiamo appoggiato al filo della montatura per circa 5-6 volte sì non di più diciamo che vanno benissimo anche 5-6 volte perché il nostro intento è proprio quello di creare uno stopper che sia scorrevole sul filo sì ma un attimino più duro nello scorrere in modo tale che blocca lo stopper in gomma che abbiamo già messo nella fase di ferrata poiché giustamente è lì che scarica la forza quando ferrate quindi abbiamo bisogno se abbiamo degli stopper in gomma un attimino più grossi quindi il filo scivola facilmente abbiamo bisogno di un ulteriore fermo e questo è l'ulteriore fermo ragazzi che ci serve ok l'abbiamo passato a 7 volte qui non serve inumidire bagnare nulla di tutto ciò ragazzi serve sempre tenere teso il filo ok adesso ragazzi andiamo a stringere tirando le due estremità dello spezzone di filo che abbiamo preso ok e come vedete il nodo è fatto abbiamo un nodo scorrevole sul filo della nostra montatura adesso che cosa è importante fare tagliare le eccedenze e allora facciamo lasciate sempre dei piccoli baffettini non tagliate mai del tutto giusto qualche millimetro uno e qualche millimetro di qua perfetto fate attenzione a non tagliare il filo della montatura perché sarebbe un vero peccato così e lo tagliamo anche di qua adesso ragazzi come vedete tra lo stopper e la piombatura ci sta questo piccolo nodino questo nodino adesso lo andiamo ad avvicinare allo stopper in gomma come vedete scorre sul filo andiamo ad avvicinare e lo fermiamo qui proprio sullo stopper in gomma in questo modo ragazzi garantito al 100% anche con la ferrata più potente del mondo il galleggiante si capovolgerà quando andate a ferrare perché non sarà più in posizione dritta andrà a fare forza sullo stopper ma lo stopper si appoggerà su questo stopper perdonate il gioco di parole in nylon che noi abbiamo creato impedendogli di scivolare verso il basso quindi è uno stopper dello stopper possiamo dire così i baffettini aiutano proprio l'azione di blocco dello stopper in gomma quindi è importante che ci siano che dire ragazzi io credo di avervi detto tutto come al solito i commenti sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda perplessità come sapete io vi rispondo sempre quando posso e per me è sempre un piacere avevo già da tempo intenzione di mostrarvi questa fantastica montatura roccola usa ancora da più tempo di me io poi l'ho modificata l'ho perfezionata in base alle mie esigenze ho fatto un po' una miscellanea di combinazioni varie fino a trovare questa che secondo me a mio modesto parere mi ha reso bene che è una delle montature più valide quando si pesca con la sarda specie da scogliera e in porto e quindi che dire ragazzi da Megadome non è tutto io spero che questo video vi sia risultato utile provate questa montatura perché non ve ne pentirete ciao ciao ciao